Buonasera, Andrea Piras, tu Mercato Web. Le chiedo subito la gioia per questa salvezza aritmetica arrivata alla fine, forse ancora più bella per come è arrivata. Sì, alla fine perché sudata, perché abbiamo incontrato una squadra che ci ha fatto penare, come è giusto che sia. Una partita combattuta dove probabilmente il pareggio ha il risultato giusto, ma io credo che oggi per noi è una giornata speciale, è un coronamento di un sogno che volevamo raggiungere con tanto lavoro, tanto sacrificio, superando insieme gli ostacoli. In questo finale dovevamo assolutamente svoltare, abbiamo trovato la chiave per fare sette punti in queste tre partite che oggi ci consentono di essere salvi a tre giornate dalla fine. Credo che sia un risultato veramente importante, spero che questi ragazzi vengano celebrati come meritano. Marco Pisacchi, Tutto Sport, Radio Sportiva. Mister, mi pare che abbia trovato poi le carte giuste nel corso della partita, nel finale, perché l'Empoli ha avuto un po' di difficoltà in questa partita che non era evidentemente così scontata, poi però avete trovato dalla panchina due giocatori in particolare che praticamente hanno giocato 5-8 minuti in pratica e hanno trovato il gol. La storia della partita dice questo, noi eravamo partiti molto bene, questa partita abbiamo creato varie occasioni, non siamo riusciti a sbloccarla, ma poi dopo loro subito il gol, ci siamo diventati contratti, abbiamo iniziato ad andare un po' in confusione perché probabilmente ci è subentrato un po' di paura di non andare a raggiungere il risultato e abbiamo provato in tutti i modi di cambiare le carte in tavola, mettendo dentro tutte le risorse che ho dalla panchina, è andata bene, sono contento anche per piccoli perché è un altro ragazzo giovane, di grande prospettiva, che si è inserito perfettamente nel gruppo e marita questa soddisfazione. Posso chiederle se a questo punto si può iniziare anche a valutare un po' il futuro per lei, per questa squadra, che in genere ha sempre avuto la possibilità di valorizzare tanti giocatori, quindi magari qualcosa potrà cambiare nel corso dell'estate, però insomma è una squadra che ha sempre una certa linea da seguire. Intanto abbiamo tre partite dove noi vogliamo fare più punti possibile, come è giusto che sia. Per quello che riguarda il futuro sicuramente cambieranno tante cose perché siamo una squadra che ha tanti talenti che probabilmente rischieranno di essere venduti come normale che sia, abbiamo tanti prestiti, comunque ogni anno è a sé, se si riparte, ma sono tutti discorsi che faremo a bocce ferme. Ora bisogna pensare adesso a festeggiare perché è giusto festeggiare e poi dopo finire benissimo questo campionato perché vogliamo sicuramente continuare a stupire perché credo che una piazza come Empoli, che non è mai stata praticamente nemmeno vicina alle zone pericolose in tutto il campionato, credo che questo testimonia la bontà del lavoro di tutti quanti. Le faccio una io prima di chiudere, fenomenale, il club ha celebrato così la vostra salvezza. Lei ha una dedica particolare in questa serata? Ma io la dedica prima di tutto la faccio ai miei giocatori perché penso che sono loro che poi vanno in campo, sono loro che portano in campo quelle che sono le mie idee, quello che è poi il nostro rapporto anche a livello di mentalità e devo ringraziarle, voglio ringraziare loro perché sono i protagonisti e oltre al club ovviamente al presidente e al direttore che hanno creduto in me e hanno pensato che potessi essere io la persona giusta per arrivare a questo traguardo, quindi i ringraziamenti vanno a loro. Se lo meritano tutto perché sono veramente un gruppo di ragazzi straordinari. Aggiungo io solamente una cosa se mi permettete, non dico questo per l'echinaggio o altro, io credo che questa sera c'è un'altra componente che ha vinto che è il pubblico. Oggi veramente è stato impressionante vedere una tifusoria prima della partita tifare in quel modo e con una squadra già retrocessa tifare per 95 minuti in continuazione la squadra. È stato veramente da avversario impressionante e credo che loro non meritano assolutamente come i calciatori, come il collega che vive sempre in maniera molto passionale il suo lavoro e lo si nota ascoltando poi le sue interviste. Non si meritano quello che sta succedendo fuori dal campo, ma veramente è stato un sentimento comune che abbiamo avuto tutti quanti noi da ospiti in questo stadio meraviglioso. Quindi credo sia il minimo comunque ringraziare i tifosi della Samp per la serata, per l'ambiente che hanno creato. Oltre ai nostri tifosi che sono stati anche oggi fantastici e per tutto l'anno sono stati così. Sono due tifoserie incredibili e i nostri tifosi sono lo specchio esatto di quello che è stata la nostra squadra per tutto l'anno. Quindi questa dedica più importante va chiaramente ai nostri grandi tifosi.